Cristiani ortodossi e cattolici, fratelli più che mai al di là dello scisma del 1054, secoli dopo, si ritrovano più uniti che mai a Chieti per aiutare la popolazione ucraina. Il parroco della chiesa ortodossa di Costantino ed Elena, padre Anatoli, ucraino egli stesso, si sta meravigliando della generosità dei cittadini che portano viveri e beni di prima necessità nella parrocchia di Chieti Scalo. Una collaborazione con i fratelli cristiano cattolici, siamo andati con lui al casello dell'autostrada dove camion di aiuti sono arrivati da Vasto e dove padre Anatoli ha abbracciato il parroco della chiesa cattolica di Don Bosco a Vasto, Don Massimiliano. Da qui al deposito cocesso dalla famiglia Anello dove sono smistati prodotti di prima necessità medicinali e altri generi da inviare al martoriato popolo ucraino. Alla telecamera di Luca Corneli padre Anatoli racconta Innanzitutto io sono della chiesa ortodossa e della diocesi, sacra diocesi ortodossa d'Italia e del patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Prima di tutto chiedono e raccogliamo cose di primo soccorso, cioè bende per curare le ferite delle armi del fuoco, qualsiasi materiale sanitario. Seconda priorità è omogenizzati, latte in polvere per bambini e terza vestiti per bambini. Sempre dalla chiesa cattolica romana abbiamo avuto tanto tanto aiuto in questi giorni e qui proprio poi vedrete, cioè siamo qui incontrati proprio che stanno portando questi tre camion da Vasto. Cioè la chiesa cattolica, il popolo di Chieti, di tutto Abruzzo. Non pensavo che sarò, grazie a Dio, sommerso di tutto il materiale. Padre Anatoli abbiamo visto delle scene in Ucraina che ci hanno fatto male al cuore, ma la situazione sta peggiorando giorno dopo giorno. Allora, io ripeto, io ormai non credo ai politici, non credo che possano risolvere qualche cosa a livello politico, non credo. Solo Dio, solo Dio può mettere le mani, solo Dio può sistemare tutto, solo Dio. Perché situazione, io penso che qua manco 10% fanno vedere quello che succede. Non si può spiegare. Loro fanno raso suolo, loro vogliono sterminare il popolo ucraino e questo bisogna urlare, gridare perché è così, stanno facendo così. Allora, io porto la croce, no? Padre porta la croce, tutti portiamo la croce, no? Anche quelli portano la croce, allora non devono tenere la croce, devono toglierla perché non puoi andare a casa di altri a uccidere e chiamarsi anche cristiani. Don Massimiliano, parrocchia Don Bosco Salesiani di Vasto e qui c'è un bel momento di incontro tra cristiani, cattolici e ortodossi. Sì, siamo venuti qui per portare gli aiuti perché ciò che ci unisce è proprio la parola cristiani. In questo momento tanti fratelli stanno soffrendo, ci sono i fratelli ucraini, ci sono i fratelli anche russi che purtroppo si trovano coinvolti in questa cosa a causa di qualcuno, non di tanti, di qualcuno. Però è la parola Cristo che ci unisce anche nella solidarietà. Io ho visto tante persone, adulti, giovani, bambini, portare e anche lavorare nel raccogliere, nel smistare, nel creare quelli che sono gli aiuti per questa popolazione.